Girardo Giovanni, detto Nanni, di Ornea, libero professionista, candidato alle prossime elezioni regionali per il Piemonte nel collegio della provincia di Cuneo, uno dei sei candidati. Il suo collegio del Tano, Romongia, Cevetta, Uzzone, Bormida, Belvo e Cipano, Altalanga. Un problema della regione Piemonte ma anche della provincia di Cuneo è la questione del lavoro. Quali prospettive prospetta la Lega per la soluzione al lavoro che oggi è molto precario e a volte manca e chiudono le aziende? Certo, questa è una cosa importantissima per noi e per tutto il Piemonte, non soltanto per la nostra zona. In quanto effettivamente noi dobbiamo in tutti i modi cercare di portare, non produrre in Cina, non in Turchia, versi di produrre in Piemonte, produrre in Italia prima di tutto. I soldi dobbiamo farli qui, dobbiamo creare vecchiazza qui, dobbiamo lavorare qui. Inutile che noi arriviamo le grandi aziende aiutate da Roma che portano i soldi all'estero per farsi le fabbriche e noi continuiamo ad avere dipendenti disoccupati, un caso integrazione o un buon po' di altra mobilità.